Il ringrazio Rossini TV per averci concesso questo spazio, a noi dall'Associazione 50 e più. Chi ci ha seguito ha visto che abbiamo prodotto una trasmissione dal titolo Generazione Silver, dove abbiamo parlato dei problemi che riguardano la terza età. Cogliamo l'occasione per fare gli auguri di Natale, ringraziare chi ci ha seguito, soprattutto se ha trovato interessante la trasmissione. Se la trovate interessante ho una buona notizia, l'anno prossimo ci sarà un nuovo ciclo e quindi ci incontreremo e avremo nuovamente modo di darvi le nostre informazioni su questo settore che sta diventando importante. Come sapete la popolazione anziana sta crescendo in maniera, non dico preoccupante, ma certamente impegnativa per la società. A proposito di quello che succederà in futuro, cioè la replica di questa nostra trasmissione, chiediamo al Presidente dell'Associazione 50 e più, Alberto Dolci, di illustrarci quali sono le intenzioni dell'Associazione, che cosa ci riserva dopo le sorprese di quest'anno che sono state interessanti. La trasmissione, abbiamo già detto, è anche un convegno sul benessere in menopausa. Presidente, che cosa ci aspetta nel 2021? Ringrazio il collega Marcello Mamini che ha prodotto e condotto la trasmissione Generazione Silver per la domanda a proposito del 2021. È chiaro che le restrizioni relative al Covid ci obbligheranno purtroppo a non incontrarci ancora per diversi mesi. Naturalmente abbiamo ben presente che la parte di popolazione associata a 50 e più è quella più a rischio. Di conseguenza stare lontani, distaccati, è veramente un obbligo. Ciononostante vogliamo sempre tenere i contatti tra di noi, mantenere stretti i rapporti e cercare di fare un servizio agli associati e ai non associati. Le trasmissioni che sono state messe in onda grazie a Rossini TV e prodotte da 50 e più in questo autunno sono state molto seguite, hanno avuto un grande riscontro. Abbiamo potuto verificare anche dalle telefonate, dai ringraziamenti e dagli interessamenti, nonché dai nuovi iscritti all'associazione, che è un mezzo che ha la sua capacità di incidere. Di conseguenza, come è stato già detto, abbiamo deciso di rinnovare il nostro impegno e anche per il prossimo inverno e primavera 2021 andare in onda con nuove puntate della trasmissione Generazione Silver. I contenuti saranno similari, ma ci saranno ovviamente anche delle novità a proposito di rubriche nuove che potrebbero essere anche relative alla cucina o altre metodiche relative al benessere esteriore o anche a come ci si mantiene bene in forma. Ci saranno tematiche nuove che renderanno ancora più interessante la trasmissione. Spero che ci seguirete con lo stesso entusiasmo e numerosi, come avete fatto in passato, e colgo l'occasione per fare i migliori auguri ai nostri associati e a tutti gli ascoltatori della nostra trasmissione di Rossini TV, con la quale abbiamo collaborato in maniera proficua. Visto che non ci possiamo vedere, dovremo festeggiare da lontano, ma tanti, tanti carissimi auguri a tutti. Contro un mondo sordo al canto della libertà Contro un mondo sordo al canto della libertà Contro un mondo sordo al canto della libertà